Arrivani Prof è la storia del peggior liceo d'Italia, dove a un certo punto, come una strana di terapia d'urto, vengono mandati i peggiori professori d'Italia, quindi ai peggiori studenti i peggiori professori. Può sembrare un paradosso, e a tutti gli effetti lo è, ma le conseguenze di questo incontro sono le più inaspettate. Ad esempio? Ad esempio che i ragazzi dopo un po' si appassionano a modo loro quello che si fa. C'è poi una cosa iniziale che viene detto che se quell'anno, essendo proprio la scuola peggiore, che ha quasi tutti i bocciati storicamente, quella sezione, se quell'anno non avranno almeno la metà, il 50% di promossi, verrà chiusa la sezione. Quindi a un certo punto poi si scoprirà che ci sono delle manovre sotto, sotto questa cosa anche un po' malvagie. Allora questi professori che all'inizio sembravano fancazzisti, sembravano lì parcheggiati, ognuno che non volesse fare niente. Quando capiscono questa cosa si prendono a cuore la situazione, quindi insomma diventano dai peggiori sette, i magnifici sette, e faranno di tutto per far promuovere il più possibile questi ragazzi. Di tutto, proprio di tutto.